La zebra ce l'ha prima il bianco, bianco dopo le strisce nere. È una cosa che fa andare in sicurezza ai bambini sopra la strada. Se non ci sono le strisce puoi passare senza le strisce. E gli uomini sono ancora più piccoli delle strisce, quindi sono gli uomini che vanno sulle strisce, non le macchine. Se sul cavallo c'è qualcuno possiamo chiederci di soppare il cavallo così dopo il cavallo non può morire. Dopo vediamo il suo sangue, le sue ossa, il suo corpo. No, che schifo! Grazie!